Sport e solidarietà, un binomio che funziona, anzi in questo caso ha dato a Gesù i frutti perché si tratta della seconda edizione di un connubio nato per raccogliere fondi per il reparto di pegiatria dell'ospedale di Pescara. L'evento, organizzato dal Napoli Club Abruzzo, è in programma sabato 30 novembre all'Aurum e comprende anche una mostra di cimeli calcistici degli anni 70 e 80 realizzati dalla NR, lo storico marchio pescarese che ha vestito le squadre più importanti d'Italia. All'iniziativa hanno aderito anche l'attrice Tiziana Di Tonno e lo showman Vincenzo Livieri. Sentiamo uno degli organizzatori, il presidente del Napoli Club Abruzzo, Roberto Russo. Se sarà possibile apprezzare malie indossate, avremo di cimeli unici, l'unica maglia in Italia indossata da Maradona, il primo scudetto e poi avremo altre malie indossate del Pescara, Foggia, Venezia, Milan e Fiorentina. Vogliamo rinnovare un invito per queste due giorni, una full immersion nella storia del calcio di serie A ma anche di serie B. Sì, io invito particolarmente a portare anche i bambini per farli conoscere cose del calcio allora, perché il calcio di adesso è bello, è stupendo, ma allora in Italia giravano migliaia di campioni e ai bambini è giusto che comunque a chi piace il calcio ripercorra questo percorso che è stato fatto negli anni. L'anno scorso l'iniziativa si è svolta al Castello di Nocciano e la generosità di chi ha partecipato ha permesso l'acquisto di importanti supporti per il reparto di pediatria, come ricorda il primario Maurizio Ericò. L'anno scorso abbiamo cominciato aiutando, acquistando dei supporti per le mamme dei bambini ricoverati, perché il nostro obiettivo è stato quello, grazie all'intervento della direzione dell'azienda, di migliorare, ristrutturare e abbellire il reparto, diminuendo il numero di pazienti per ogni stanza di degenza, migliorando e rendendo disponibile un bagno dedicato per ogni stanza che è doppia e non è più quadrupla. Quindi abbiamo migliorato il benessere del bambino e della mamma, qualche volta il papà che è ricoverato col bambino, e quindi abbiamo potuto incrementare anche la dotazione di letti che offriamo alla mamma, soprattutto è importante questo quando le degenze si protraggono per più dei soliti 3-4 giorni, che sono quelli della fase acuta. Quindi ogni pezzettino di aiuto per le mamme è una maniera per assistere meglio i nostri bambini e per rendere il passaggio in ospedale meno faticoso e meno oneroso per le famiglie.